visti i capelli che mi ritrovo penso sia l'unica soluzione valida questo video non è sponsorizzato da VaperStyle e il cappellino l'ho pagato ben ragazzi bentornati in un nuovo video di First Step to Vape oggi siamo qui per parlare dei liquidi azad più precisamente parleremo di due liquidi che sono usciti già da un po di tempo che sono quindi sul mercato da un po di tempo ma visto che ci stiamo avvicinando a un periodo caldo della stagione ve ne parlerò adesso è la linea che azad ha creato in 20 ml con le classiche gorilla chubby da 60 quindi le porteremo da 20 con le classiche basette le porteremo a 60 e se andranno a completare così ci sono molti video online però visto comunque che ultimamente sto provando abbastanza tabacchi freschi mi sono capitati anche questi per le mani e ho detto ma sì ci faccio un video perché anche se comunque è passato molto tempo vi voglio rispolverare così che le persone che potevano non conoscere questo marchio o non conoscere questi due liquidi magari ci pensano e quest'estate si svappano questi due liquidi partire subito con il mint tobacco e lo andrò a svappare sul vampire v2 da 7 fuori ho fatto 5 spire su punte da 2 e mezzo 28 gau giocante alla 1 io personalmente mi trovo molto bene e tutti i due gli atomizzatori che ho chiuso da questo video hanno questa rigenerazione il liquido viene descritto come un virginia toscano a crudo e a cavendish con infuso di menta pipirita questi due liquidi li ho provati su ambe e due gli aromatici comunque partiamo dal fatto che sentiamo prevalente il tabacco virginia è la nota prevalente di questo liquido e il diciamo che il cavendish e la menta sono messi in secondo piano quando l'ho acquistato pensavo di aver preso di aver comprato un bel tabacco virginia con della menta me l'aspettavo molto più corposo però non è assolutamente un tabacco da sottovalutare perché non è fresco ma ha quella notte di freschezza che è data dalla menta e quindi va a darvi una lieve sensazione di fresco in bocca che è come quando c'erano le sigarette con le capsule che le premavate se avevate l'aroma di menta quindi fondamentalmente diciamo che un pochino vagamente lo va a ricordare me l'aspettavo un pelo un po più marcato la menta però come il liquido può dire la sua il cavendish ad essere sincero non ce lo sento e sento una gran nota di virginia toscano quella la sento veramente veramente predominante e sinceramente me l'aspettavo diverso non aspettavo un pelino più mentoso però sette tranquillamente ce lo porto a caso è un buon liquido che se volete un tabacco fresco non è proprio quello che vi consiglierei però se volete un tabacco con un leggero retro gusto di menta è una buona scelta comunque vi dico che ve ne porterò altri di tabacchi e menta perché ne ho ne ho un po' ultimamente mi sto intrippando quindi ne sentirete ancora parlare non perdiamo altro tempo vampire epos 5 spire su punta da due e mezzo canta la 1 28 gauge persian ice qua ragazzi cambia tutto cambia veramente tutto il persian precisamente il persian apricot è il mio tabacco preferito quindi sentirlo in versione ice e sentire una cosa che ti piace in versione ice generalmente l'ice rovina un po tutto però vi dico qua sta da dio viene scritto come un tabacco persiano macerato con cristalli puri di mentolo e albicocca matura vi dico ragazzi è uguale sputato con l'ice ed è fantastico questo è comodamente da 11 dico che mi accompagnerà comodamente come tabacco da estate qua dentro magari non con questa mod precisamente ma con le eppos qua dentro sicuramente ci sarà solo questo tutta l'estate quindi vi dico ragazzi sto facendo una piccola serie c'è una piccola serie non ci sarà una vera e proprio playlist sul canale ma saranno dei video collocati durante le settimane dove parlerò dei tabacchi principalmente che potete si possono anche utilizzare l'estate quindi magari con un tocco di ice con un tocco di menta e quant'altro spero che questa idea vi possa piacere visto che si sta avvicinando al periodo caldo dell'anno a me sinceramente piace perché mi dà più svago quindi mi dà più possibilità di provare molte più cose e essendo avendo un canale mi dà anche mi apre molte più porte perché mi dà la possibilità di ampliare anche le mie conoscenze e quindi niente ragazzi questo qua lo ripeto è da 11 veramente veramente buono vi ho già detto che ce ne saranno altri quindi vi dico rimanete sintonizzati che arriveranno anche molte sorprese su a livello hardware spero mi arriveranno presto le prese poco tempo fa quindi spero mi arriveranno nel breve periodo così che vi posso portare magari anche per primo in italia davvero difficile ma ci posso provare comunque ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video vi invito a lasciare un like commentare iscriviti se non l'avete ancora fatto che per me è molto molto importante abbiamo appena raggiunto i 1000 iscritti su instagram ne sono felicissimo vi ringrazio tutti uno ad uno con l'ultima svapata nel mio nuovo link preferito ci salutiamo ciao ragazzi